il professore e il pazzo è il film più professore e il film più pazzo di questa settimana è professorale nel senso più buono più bello del termine accademico per nel racconto di questa elite che vuole che vuole che vuole creare un qualcosa che sia utile alla società come un dizionario della lingua inglese in quel caso quindi è un film professorale però con una elite o quantomeno con alcuni esponenti dell'elite rappresentati in questo film da stevie coogan e mel gibson che sono veramente molto belli come personaggi ed è bello vedere un'elite che sia così conscia del suo ruolo e responsabile e vogliosa di sfruttare tutto ciò che il mondo gli ha dato per poter restituire qualcosa di utile e di importante per una nazione e una società un dizionario le parole le parole le parole sono molto importanti come diceva di che la picella è in palombella rossa e poi è il film più pazzo della settimana perché c'è la malattia mentale che c'è anche nell'eroe di cristiano anania un piccolo film molto buffo con salvatore esposito e marta castini e qui e poi c'è l'alzheimer ovviamente anche in un viaggio indimenticabile di till schweiger però qui c'è il disturbo mentale legato alla guerra ai traumi di guerra e ed è molto interessante perché può può scomparire di fronte a può guarire quindi è una malattia anche anche la malattia mentale può guarire e poi però può di nuovo peggiorare e champagne incarna in modo divino secondo me proprio questa altalena di stati e di stati della malattia mentale all'interno di questo film di cosa stiamo parlando il film in costume ambientato che va che copre un arco temporale molto vasto che però non sembra che passi passino così tanti anni è un arco temporale copre un arco temporale di circa 40 anni ma non sembra siamo alla fine dell'ottocento a londra e c'è uno champagne che corre in modo scomposto matto appunto mi piace già come corre champagne all'inizio del film per le strade di londra di notte e sparando inseguendo una persona e urlando e urlando feniano feniano adesso il termine magari non vi sarà familiare che vuol dire feniano beh questo è un film che parla di parole e che parla dell'origine delle parole parla di qualcuno Mel Gibson in questo film incaricato da l'accademia di oxford a redigere l'oxford english dictionary cioè quella che oggi è un'istituzione che all'epoca non se la passava per niente bene infatti è già un film che ci fa vedere l'elite oxfordiana che dice siamo in una brutta situazione e allora ecco che affidano a quest'uomo che non ha attitori accademici ma è molto colto conosce tantissime lingue si propone con l'entusiasmo Mel Gibson c'è una barba che arriva fino a qua è un film molto divertente molto professorale in senso buono molto pazzo in senso veramente profondo Mel Gibson viene incaricato Stevie Cougar lo protegge è un parvenu è un outsider e già Mel Gibson ci sta perfettamente in questo ruolo però è molto colto ha una famiglia molto numerosa è devoto è credente come è Mel Gibson nella vita reale e chi e chi comunque ama questo attore che ha commesso come essere umano come tutti noi tanti errori è stato intemperante è stato razzista è stato violento nella sua vita sapete benissimo quello che ha combinato Mel Gibson nella vita però io so anche che è una persona è credente a volte ha detto delle cose anche molto brutte su quel fronte lì però in questo film io ho visto per esempio la sua voglia di espiare anche in un certo senso alcune cose che ha fatto nella vita di cui non è per niente fiero adesso attraverso appunto questo personaggio che vuole disperatamente e tenacemente comporre questo dizionario della lingua inglese in un momento in cui la università di Oxford è molto debole a livello accademico e lui si sente in grado di poter portare a casa diciamo di poter portare a termine questo compito vuol direte ho capito ma è il matto che corre per Londra che spara quello è Sean Penn che si trova a Londra in un momento in cui è reduce dalla guerra civile americana è un dottore e forse qualcosa di più e come si incroceranno le strade di questi due uomini intanto è un film che parla di parole e è già un film così a me piace è un film che parla di dizionari e a me già un film così piace è un film che parla dell'importanza di come a un certo punto poi anche la ricerca e il lavoro serio possa lenire alcuni nostri disturbi i disturbi che possiamo provare perché siamo anche noi appunto vittime della guerra e allora eccolo qua un film in costume veramente particolare dove la prima volta che questi due grandi attori recitano insieme anche Sean Penn ne ha combinate forse meno gravi rispetto a Mel Gibson però anche Sean Penn è stato intemperante nella sua vita e anche lui ha la barbona e anche lui sembra non so forse sono io che l'ho letta così però è affascinante vedere questo film no? Quando tu hai due icone del cinema così forti come Mel Gibson e Sean Penn è come se ti raccontassero qualcosa anche della loro vita attraverso questi uomini anche Sean Penn sembra che voglia espiare qualcosa o comunque si trovi in un ruolo che ha un senso con la sua vita a volte scapestrata a volte violenta intemperante sono entrambi due persone che hanno avuto grande successo e vengono anche da un po' anche da cinema diversi no? Mel Gibson dal cinema dell'azione dal grande cinema dell'azione degli anni 80 con Mad Max e poi dal cinema in costume patriottico e storico in una chiave quasi fantasy estrema con Braveheart e poi quel film così particolare sulla passione di Cristo che tante polemiche ha generato nel mondo Sean Penn è invece anche lui ha una carriera da regista di tutto rispetto però è più famoso per gli Oscar vinti come attore e per anche essere vicino a un mondo liberal diverso da quello di Mel Gibson più conservatore e quindi invece essere appartenente a un mondo di sinistra e quindi è buffo il loro incontro no? il conservatore e il progressista però due intemperanti due incazzosi due che hanno sbagliato anche nella loro vita che si mettono in questo film a lavorare sulle parole sì perché è nell'incontro della redazione di questo dizionario che si incontreranno le vite del professore e del pazzo di quello che correva di notte urlando urlando feniano e di quello che la parola feniano forse metterà nel dizionario e quindi sono due persone molto diverse e il loro incontro è nella redazione insieme di questo dizionario guardate è una storia tratta da una storia vera è un film molto buffo Mel Gibson si innamorò del progetto leggendo un libro dedicato a questa storia a questo incontro anche di persone e poi è successo un gran casino legato al film cause ecco perché è diretto da chi? da P.B. Shemran che forse non è P.B. Shemran forse è il bravissimo sceneggiatore anche di Apocalipto di Mel Gibson molto bello del 2006 Farad Safinia che ha tolto il suo nome e ha messo il suo pseudonimo Mel Gibson è coproduttore ma ha fatto causa quindi è un film che ha anche una difficoltà adesso ad essere distribuito perché c'è stato un conflitto forte tra Mel Gibson e i coproduttori della Voltage e quindi questo lo rende ancora più affascinante ai miei occhi e ai nostri occhi di cinefili perché è la prima volta che queste due icone del cinema si incontrano funziona molto bene la loro interazione sono molto buffi insieme proprio nelle sequenze che non sono tante ma non sono nemmeno poche insieme sono veramente affettuosi quando interagiscono tra loro Mel Gibson e Sean Penn cioè il film ha una grande potenza cinematografica lì quando c'è l'incontro di questi titani ed è vero perché a volte molto spesso quando succedono queste cose poi alla fine è più marketing che non ciccia come diciamo noi che non quello che c'è nello schermo invece Sean Penn e Mel Gibson danno un senso molto profondo a questo film e poi è buffo che sia successo tutto sto casino Stevie Diggi Safinia che mette un altro nome il suo pseudonimo come regista c'è una bravissima anche Natalie Dormer mai vista così brava mai vista così matura c'è un brillante Stevie Cogan insomma è un film veramente saporito il professore è il pazzo se volete vedere qualcosa di realmente brillante sofferto e interessante e affascinante dal punto di vista cinematografico questo è il film che fa per voi il professore è il pazzo ciao betteist subscribe professori e pazzi be bad ciao 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 ciao